Oggi è la Spezia per dire no alla riforma costituzionale del governo Renzi, perché votare no? Che cosa accade? Se passa il sì, i comuni non contano più niente, le regioni non contano più niente, decide solo Roma o peggio ancora Bruxelles. Quindi le leggi sbagliate sulle banche, la direttiva Bolkenstein, l'immigrazione senza controllo, tutte le follie che arrivano da Bruxelles noi le metteremmo in Costituzione, con tanti saluti per il lavoro di Spezia, di Genova, di Imperia e dell'Italia intera. Aggiungo che sull'immigrazione l'ultima parola aspetterebbe solo e soltanto allo Stato e quindi col sì ci sarebbero finti profughi ovunque in giro per l'Italia. Mi sembra ragione più che sufficiente per votare no. Ipotizziamo che vinca il sì. Che cosa succede politicamente nel centro-destra o comunque a livello governativo? Se vince il sì non perde la Lega, non perde Salvini, perdono gli italiani perché il popolo non sarebbe più sovrano, ma sarebbe sovrano se va bene a Bruxelles, se va bene alla Merkel, all'euro, alle banche, ai padroni della finanza e alle multinazionali. Quindi ci sarebbe una costituzione precaria come col Jobs Act hanno precarizzato la vita e il lavoro dei cittadini italiani. Quindi il no è un no di futuro, di libertà e di legittima difesa. Nel 2017 qui alla Spezia ci saranno le elezioni amministrative. Pensate di riproporre la ricetta diciamo regionale, quella di un centro-destra compatto, unito? Puntiamo a vincere per cambiare non solo a Spezia ma anche a Genova. L'abbiamo fatto in tante città governate da sempre della sinistra. Penso che il governo Totti e Rixi in Liguria stia dando ottima prova di sé. Mi piacebbe estendere il modello anche a comuni che sono, ahimè, sempre più spenti e sempre più insicuri.